È una bella esperienza, confermiamo l'evento già dell'anno scorso, adesso con anche più maturità e partecipazione perché è importante appunto divulgare queste immagini e queste notizie. Grazie alla collaborazione con il Consorzio del Museo Archeologico di Sibar si è aggiunta appunto l'evento GEDS che sicuramente rende più completo e più appetibile anche da un punto di vista turistico questi eventi. Oggi è l'ultimo evento e lo facciamo nella nostra terra di Balbia, mi rende molto felice perché c'è parecchia partecipazione e trovo sempre un pubblico molto attento che ha voglia di sapere e di conoscere il territorio e quindi i propri vini. Noi realizziamo solamente tre etichette, il vino più importante è chiaramente il Magliocco, l'etichetta si chiama Fervore, è un Magliocco in purezza, è vinificato con un anno che sta in botte da 10 quintali e poi si affini in bottiglia altri 4 anni. Ci teniamo tanto a questo prodotto, siamo certificati in bio e quindi per renderlo gradevole e diciamo ammorbidire i tannini che lo rendono importante da un punto di vista di longevità bisogna un po' di tempo e noi usciamo appunto dopo 5 anni complessivamente dalla Ventemmia e quest'anno stiamo commercializzando, in questo momento l'annata 2018. Poi facciamo un altro vitigno autoctono vinificato in purezza, sempre ma in rosato che si chiama Ligrezza e questo è un vino appunto rosato che ci serve per accompagnare la compietanza di crostacee, di pesce, di carne bianca e di formaggi leggeri. E' una terza etichetta, solamente un ettaro, solamente 3.000 bottiglie di Merlot pure vinificato in purezza. Abbiamo chiuso alla grande con una grandissima artista internazionale, Loren Anderson, Panamense ma viva a New York da ormai più di 10 anni e lì sta facendo una carriera incredibile, tra l'altro ospite del trio di Elio Coppola, siamo stati ospiti della cantina Terre di Balbia qui ad Altomonte, è un evento veramente incredibile da tutti i punti di vista, abbiamo con il consorzio Vini Doppe e Terre di Cosenza e con il parco archeologico di Sibere abbiamo cercato di stimolare tutti e cinque i sensi dei nostri ospiti, quindi dell'udito, il gusto, la vista, un posto meraviglioso, vini e le corne del territorio squisite, insomma la grande musica, il grande jazz, il peperoncino jazz festival, la gente è felicissima e noi siamo più felici di loro. Ma sono state il giusto modo di raccontare una Calabria diversa, una Calabria che noi definiamo la grande bellezza perché insomma lo diciamo sempre ma a volte non ne siamo realmente consapevoli, gli 800 km di costa, i tre parchi nazionali di cui due fanno parte dell'UNESCO, la Magna Grecia siamo noi e ce lo sta insegnando il dottor Filippo Demma, il direttore del parco archeologico di Sibari, i grandi vini che insomma stanno crescendo in qualità anno dopo anno, il nome Italia è nato in Calabria, la dieta mediterranea è nata in Calabria, insomma abbiamo veramente una grande bellezza e bontà enogastronomiche incredibili, dobbiamo solo crederci noi e promuoverlo per esempio con eventi del genere. Allora come la prima edizione anche questa seconda è stata dedicata alle donne perché è giusto che sia così, è giusto dare lo spazio reale alla donna in quanto artista in questo caso e abbiamo deciso di coinvolgere tre tipologie, nel senso sia artiste internazionali come quella di questa sera, Loren Anderson, Joe Garrison, Paul Ricci che ha accompagnato Mafalda e Minnozzi, ma anche artiste di livello nazionale come Francesca Tandoi, Rossana Casale, però senza mai dimenticarci delle artiste del nostro territorio, della regione Calabria che sono tantissime, di grandissima qualità, di alta cifra stilistica. Quindi è una vetrina anche artisticamente per la nostra Calabria.